Presto a Fanno si inaugurerà una mostra importante, di che cosa si tratta? Allora inaugureremo come ufficio comunicazioni sociali della diocesi una mostra intitolata Fotogrammi di misericordia e la inaugureremo domenica 22 maggio alle ore 17 alla chiesa Sant'Arcangelo. L'idea di fare questa mostra, di allestire questa mostra è nata proprio leggendo attentamente la lettera del Vescovo Armando alle famiglie in occasione della Pasqua 2016 e proprio attraverso questa lettera abbiamo pensato di allestire questa mostra in collaborazione con Marina Montanari dello studio Foto Art Fanno cercando di calare le opere di misericordia, di declinarle nella vita quotidiana. La mostra sarà inaugurata appunto domenica 22 alla presenza del Vescovo Armando e avremo anche come ospite Pierfrancesco Curzi che è un giornalista, uno scrittore e anche un autore di reportage fotografici da zone di guerra. Ci saranno anche delle premiazioni all'interno di questo evento? Sì, all'interno della mostra fotografica premeremo i primi classificati del concorso Immagini di misericordia, ricordo che è ancora possibile iscriversi fino a sabato 14 maggio ed è un concorso appunto riservato ai ragazzi dai 16 ai 29 anni e i ragazzi sono invitati a a fotografare un'opera di misericordia a loro piacimento e con gli strumenti che vogliono e al primo classificato andrà il premio del gemellaggio, della settimana del gemellaggio, della settimana della giornata mondiale della gioventù di Cracovia, al secondo classificato la giornata mondiale della gioventù e al terzo classificato un contributo di 160 euro. Come si coniuga la fotografia, questa espressione artistica con la sfera religiosa? Sì, abbiamo già iniziato a condividere le arti con la religione, l'abbiamo fatto anche con il cortometraggio lo scorso anno in Perfetti Sconosciuti e quest'anno abbiamo pensato che la fotografia fosse una forma importante per rappresentare le opere di misericordia.